ora tu pensa a un pianoforte i tasti iniziano i tasti infiniscono tu sai che sono 88 su questo nessuno può fregarti loro non sono infiniti tu sei infinito è infinita la musica che puoi suonare su quei tasti loro sono 88 tu sei infinito questo a me piace questo lo si può vivere ma se tu ma se io salgo su quella scaletta davanti a me si rotola una tastiera di milioni di tasti milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai e questa è la verità che non finiscono mai quella tastiera è infinita e se una tastiera è infinita non c'è musica che puoi suonare e se non c'è musica che puoi suonare sei seduto sulla sgabella sbagliato quelle pianoforte su cui suona Dio Cristo ma lo vedevi le strade ma solo le strade ce ne sono migliaia ma come fate voi da giù a sceglierne una a scegliere una donna una casa una terra che sia vostra un paesaggio da vedere un modo di morire tutto quel mondo quel mondo addosso che non sai dove finisce il quanto ce n'è ma non avete paura di finire in mille pezzi solo a immaginarla a viverla tutta quella immensità